Presidente Marsiglio, alla celta di Tortoreto, due anni dopo l'acquisizione da parte del nuovo gruppo di questa realtà produttiva, sono stati salvati i posti di lavoro e ci sono prospettive interessanti per il futuro? Come abbiamo oggi potuto vedere se ne sono anche creati di nuovo, si cercano nuove competenze in settori di altissima tecnologia, informatica, cibernetica, elettronica, industriale, progettazione, con l'assessore al lavoro e alla formazione quaresimale siamo venuti qui proprio per cercare di capire come poter aiutare la crescita di questa azienda che qualche anno fa noi abbiamo trovato in piena crisi, era uno dei casi di cui giustamente preoccupava l'opinione pubblica e sindacati il mondo del lavoro e dell'economia perché era diventato uno dei punti deboli dell'economia abruzzese, oggi celta è un'azienda risanata, rilanciata con prospettive di crescita che fa delle cose di straordinario livello tecnologico, di sicurezza militare e di altissima tecnologia e noi siamo intanto felici di aver potuto accompagnare questo percorso che ha risolto la crisi aziendale e di poter lavorare insieme per mettere in condizione l'azienda di crescere. La cosa principale che vogliamo e che dobbiamo fare e che ci viene chiesta è quella di aiutare a far crescere le competenze giuste. E' vero che la disoccupazione è un problema grave ma troppo spesso viviamo il paradosso di avere la richiesta da parte delle aziende di decine se non centinaia o migliaia di lavoratori che però debbano avere delle qualifiche particolari non serve più una generica istruzione, serve un'istruzione qualificata orientata verso determinati segmenti produttivi ed è quello che stiamo mettendo in campo attraverso i vari strumenti del Fondo Sociale Europeo del programma Goal, del rafforzamento e anche della realizzazione di vecchi e nuovi ITS sui tecnici di formazione superiore che vengono costruiti proprio intorno a un progetto che coinvolge anche le aziende e io sono sicuro che facendo questo lavoro nei prossimi anni vedremo non soltanto consolidare l'attuale occupazione presente che qui oggi supera le 70, credo che siano 77 unità ma che questo possa far crescere anche ulteriormente il lavoro e il lavoro qualificato in Abruzzo.